Oggi facciamo i salatini e per farli abbiamo bisogno di 50 g di parmigiano, 100 g di farina 00, un uovo intero, 50 g di burro morbido, un pizzico di sale. Prima di tutto mettiamo all'interno di una ciotola la farina. Mescoliamola ad un pizzico di sale. Aggiungiamo l'uovo, aggiungiamo il burro a pezzetti già ammorbidito, aggiungiamo un po' di origano. Adesso impastiamo fino ad ottenere un impasto omogeneo. Una volta aver ottenuto il nostro impasto mettiamolo all'interno del frigorifero per mezz'ora, farlo riposare. Il nostro impasto è riposato, adesso lo mettiamo su un piano infarinato e lo stendiamo. Adesso andiamo a ritagliare con uno stampino i nostri salatini. Adesso andiamo a ritagliare con uno stampino i nostri salatini. Andiamo a buchierellare il centro del biscotto. Disponiamole all'interno di una teglia precedentemente imburrata ed infarinata e inforniamole a 180 gradi. I salatini si sono perfettamente cotti e adesso possiamo servire. Grazie. 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 Grazie a tutti